Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri nel centro storico di Caltanissetta a causa di un'auto che è andata a fuoco. L'episodio si è verificato in via Signorino, nel cuore del quartiere Saccara, dove una Fiat Punto è andata in fiamme. Il veicolo, di proprietà di un 48enne di nazionalità marocchina, ha riportato notevoli danni nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivata la polizia che ha iniziato subito le indagini per comprendere con più chiarezza la genesi dell'accaduto.